Avevo una domanda. L'HDRi si, c'è una zona dove si creano i materiali, che si chiama World, che praticamente è quella sfera all'interno dell'interfaccia che carica mappe HDRI e che interagiscono con il modello. Quindi quando tu carichi una di queste mappe dentro a Eevee, hai il modello illuminato a 360 e fotografico assicurato. Piesature intendi fisica? Se io tengo la mano così, se giro, ovviamente tutta la rossatura si... Sì, io però non so, bisognerà essere rigatori specializzati, non lo so. Non lo so. Beh, ho capito, sì. Ma no, ma lui intendeva proprio che... secondo me... Cioè, se tu muovila il braccio che interagisca con i muscoli... Diciamo che tu puoi controllare quanto e come si strecciano i vertici. Ma se tu intendi che alzandomi creola il muscolo, il muscolo si deforma tantissimo... Quella roba lì... Io non l'ho mai fatta. Cioè, probabilmente sì, ma non ti so rispondere come e con certezza. Comunque hai tutto il controllo del pesi, weight paint, se stai dicendo... Quello c'è, sì, certamente sì. Sì. Voglio direi un applauso, dottor Mennio. Grazie. Grazie.